Sono ancora forti le divisioni all'interno dell'Unione Europea sull'immigrazione, i colloqui sulla distribuzione dei migranti e la protezione delle frontiere non progrediscono. Alla fine del vertice informale di Salisburgo, i 28 hanno trovato però un punto d'incontro, aumentare la cooperazione con l'Africa. I paesi nordafricani sono dei partner importanti per impedire che queste navi cariche di migranti arrivino in Europa e per riportarli nei paesi di transito, distruggendo il business dei trafficanti, di esseri umani, possiamo affermare le morti nel mar Mediterraneo, affermato il cancelliere austriaco. In questo nuovo approccio l'Egitto potrebbe svolgere un ruolo importante. I 28 vedono il Cairo come un punto di appoggio per questa nuova cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo. Il dialogo è già iniziato. Insieme al cancelliere Kurz abbiamo avviato un dialogo con il presidente egiziano e posso dire che c'è il sostegno del Consiglio europeo per questo e simili dialoghi. Donald Tusk incontrerà domenica il presidente egiziano al Sisi e nelle prossime settimane si incontrerà anche con altri leader africani.